Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Raffaello88 e quest'oggi andremo a fare l'unboxing a Farming Simulator 15, ovvero 2015. Allora ragazzi, questo è un gioco che pur essendo in standard edition, quindi magari tra virgolette non rispetti i miei canoni di acquisto e di collezionismo, diciamo così, ho voluto prenderlo perché comunque sì, sembrerà strano, sicuramente non sarà molto popolare tra i videogiocatori, però comunque sì, ero molto ansioso e tra virgolette lo aspettavo molto questo gioco perché invidiavo i possessori che l'avevano per PC e quindi che ci giocavano e appunto volevo giocarci anche io e finalmente è uscita la versione per console, scusate, per PC e appunto adesso ve la farò vedere. Allora ragazzi, pur essendo una The One Edition, diciamo che non presenta nulla che la distingue da una versione normale standard, infatti più che una The One è una standard edition, diciamo così, e avviamo avanti, allora, la classica copertina che adesso vi faccio vedere meglio, eccola qua, aspettate che devo la modalità automatica così la vedete meglio anche voi, allora, allontaniamo un attimo, ecco qua, allora abbiamo qui la scritta Farming Simulator 15, che il 15 come ho detto prima sta per l'anno, ovvero 2015, qui abbiamo un'immagine di un trattore che è un New Holland, se non erro, a lato un macchinario per tagliare la legna, infatti questa è una delle novità principali del 2015 rispetto all'ultima versione che se non erro era il 2013, ovviamente è prodotto da Giants, molto conosciuto appunto a chi ha già giocato al 2013 e chi sta giocando ancora al 2015 su PC, e ovviamente è sviluppato da Focus Home Interactive, ovviamente Peggy 3 perché comunque sia un gioco alla fin fine di simulazione di campagna, di agricoltura, diciamo così, qui a lato abbiamo ovviamente la ScriptX Box 1 con il nome del titolo del gioco, ovvero Farming Simulator 15 e dietro abbiamo un po' tutte le caratteristiche del gioco che adesso vi faccio vedere, allora, dice questo, benvenuti alla nuova generazione di Farming Simulator, scusate innanzitutto i riflessi ragazzi, però purtroppo è la lampada che fa questo effetto, allora, allora, grazie a un nuovissimo motore grafico e fisico, Farming Simulator 15 offre un immenso ambiente di gioco, come un world ricco di dettagli e di effetti visivi, in modalità multiplayer, online o da solo, gestisci e sviluppa la tua fattoria, semina, raccoglie, leva, bestiame, mucche, galline e pecore, vendi prodotti freschi, investi in attrezzi o veicoli nuovi e più potenti e scopri la nuova attività di Farming Simulator 15, ovvero il taglio della legna con una selezione di veicoli e attrezzi specializzati, come vi ho detto prima, tra l'altro, ragazzi, è una delle novità del gioco rispetto al 2013. Poi, è lungo centinaia di agri di terreno offerti dal nuovo scenario nordico e dal rinnovato ambiente nordamericano, usa e guida oltre 140 veicoli e attrezzi agricoli autentici, tra cui mezzi esclusivi e di oltre 40 famosissimi produttori. Allora, New Holland, Ponce, Case, IH, Deus, Far, eccetera, spero di averli pronunciati bene perché non sono molto esperto in questo settore, diciamo, per quanto riguarda l'agricoltura e le macchine agricole. Poi, in modalità multiplier, far crescere l'autofattoria online, insieme ad altri giocatori, per aumentare l'autoproduzione. Qui alcune immagini di gioco, molto belle, devo dire la verità, dalla grafica si presenta molto bene. E qui abbiamo le solite caratteristiche che vi faccio vedere, ovvero che giocatori per singola console, ovviamente uno, e su Xbox One, come cooperativa, due a sei giocatori, e per installare il gioco, solo 5 GB. Ovviamente è uno spazio risorio che, comunque sia, probabilmente qualcosina in più aumenterà, se rilasceranno patch, o comunque sia, aggiornamenti del gioco, o anche espansioni, diciamo così. Comunque è molto, molto, molto rapida l'installazione e fa un po' rimpiangere i vecchi tempi quando non ce n'era nemmeno bisogno. Comunque sia, è una buona cosa questa, pur essendo un open world. Comunque sia, adesso vi faccio vedere bene il gioco e i suoi contenuti. Allora, ovviamente è una standard edition, quindi avremo, come al solito mettiamo a fuoco, avremo il cd di gioco, eccolo qua, Farming Simulator, e libretto illustrativo. Adesso vi faccio vedere com'è. E si differenzia molto, pur essendo magari un gioco, tra virgolette, non blasonato, o magari non richiestissimo, per quanto riguarda il mondo videoludico, quindi è più che altro giusto un pubblico di nicchia, lo prende, chi è realmente appassionato, tipo come me. Vi faccio vedere cosa ha di più questo libretto, rispetto magari a altri giochi più blasonati, e soprattutto più costosi, magari presenti anche in Collector Edition. Guardate un po'. Ovviamente, vabbè, avanti, la classica immagine che abbiamo trovato anche sulla copertina, Farming Simulator 15 più il trattore, praticamente. Dietro abbiamo alcune immagini con i loghi Giants e Focus. Ma quello che vi dicevo, guardate un po'. Allora, le classiche... Prendi, librettine, è abbastanza spesso. Non so se potete vederlo. Cerco di mettere a fuoco per farvelo vedere, ragazzi. Guardate quanto... Oddio, spesso. Ha parecchie pagine, devo dire la verità. È la prima che in genere rispecchia tutto il contenuto del libretto, per quanto riguarda gli altri giochi. Questa è solo una pagina. E le altre, praticamente, servono praticamente a introdurci al gioco e darci alcuni consigli iniziali, perché essendo un open board non vogliono metterci troppo in difficoltà. E vi faccio vedere tutto il contenuto, ragazzi. È un vero e proprio manuale, più che un librettino. E, tra virgolette, tratti anche un artbook. E vi farò vedere perché. Guardate un po' cosa c'è scritto. Allora, benvenuta a Farming Simulator. Il manuale è satiriato per aiutarti nei tuoi primi passi in questo mondo ricco di possibilità. Scopri tutto quello che desideri sapere sulle diverse coltivazioni, sul bestiame, sui fertilizzanti e sui vigoli del gioco. Tuttavia, la guida non può fare tutto. L'esperienza è comunque il mio ristruttore di Farming Simulator. Mettiti alla prova. Ecco, questo già fa capire che comunque sia è utile questo manuale. Non è come ho detto prima agli altri giochi che non servono a niente. Ovviamente qui abbiamo, mi sembra anche giusto, abbiamo i comandi di gioco. Eccoli qua. E qui già comincia il bello, allora ragazzi. Carriera, primi passi, ci dice come muoverci durante il gioco. Ad esempio l'acquisto di campi, assumere un lavoratore, eccetera. Poi, ovviamente è tutto a colori, da come potete vedere. Come guadagnare più facilmente i soldi. Vendere raccolto, grande richiesta, tipi di semi, eccetera. Poi, vendere prodotti degli animali. I vari tipi di missioni, le finanze. Come vedete ragazzi, non è finita ancora. Poi, ci fa vedere un po' come funziona tutto l'aspetto del negozio. Acquistare e vendere materiale o trattore, ad esempio. Il menu statistica. Poi, come usare al meglio e soprattutto a cosa servono i veicoli che troveremo nel gioco. Ad esempio, un neofida come me, che magari non sa tutto. Ad esempio, cosa serve un, non so, una seminatrice o un'irroratrice, ad esempio. Qui lo spiega tutto quanto, per fila e per segna. Ad esempio, guardate. Prendiamo proprio un esempio dell'irroratrice. Cosa serve l'irroratrice? Per migliorare il raccorto, puoi fertilizzarlo con un'irroratrice. Le irroratrici si svuotano dopo l'uso e devono essere riempiti presso una cisterna di fertilizzante. È blu situata nella tua fattoria. Se possiedi del bestiame, puoi usare il concime come fertilizzante biologico. Ecco, ad esempio abbiamo preso questo, l'esempio dell'irroratrice. Però comunque, se non è una cavolata, ragazzi, credetemi. Perché chi magari non vuole prendere questo gioco, però non magari perché ha la passione della fattoria, diciamo dell'agricoltura, però non è esperto anche a sapere cosa servono determinati attrezzi. Diciamo, questo è un manuale che serve perché comunque sia, ti dà una infarinatura generale. Ovviamente, ecco qui, altri, praticamente, oggetti, attrezzi, ti spiega cosa servono. Poi, se continuiamo, altro materiale, praticamente, anche per quello, altri attrezzi, scusate, per quello che riguarda soprattutto l'allevamento o il mantenimento del bestiame. Ecco qui, ad esempio, come allevare le mucche. Si dice, praticamente, che servono per produrre latte, praticamente, tutti i carri che magari possiamo usare per concimare o per recuperare il liquame. Ovviamente, tutto quello che serve per allevare pegole e galline. Poi, che altro? Soprattutto la sivicoltura, eccolo qui. È una delle novità del gioco. Ci dice tutti gli attrezzi necessari, ovviamente costosi. Ci consiglia, magari, di cimentarci, magari, quando abbiamo un budget abbastanza cospicuo. Comunque sì, ci spiega tutto quello che servirà e come va usato. Poi, abbiamo una mappa, praticamente, di tutto, delle due mappe disponibili, attualmente. Ovvero, Bocernol, non so pronunciarlo bene, ci dice tutto quanto. I campi, praticamente, e ogni singolo, diciamo, disegnino. C'è una specie di didascalia che ci dice cos'è, ad esempio, il luogo di scarico, eccoli qui. Tutti quelli segnati in giallo. Che ne so, il pollaio, tutti quelli con il simbolo della gallina. Adesso non trovo, eccolo qua. Questa che è la nostra fattoria. Stessa cosa per l'altra mappa. Eccola qua, West Brite. Con tanto didascalia. E alla fine, ovviamente, ci spiega anche come funziona il multiplayer. E ci dice, tra l'altro, una cosa molto importante, che praticamente, se lo stiamo facendo una partita in carriera, possiamo continuarla online o viceversa. Se la creiamo online, possiamo continuarla in single player. Praticamente, con tanto di condivisione dei fondi, ovvero dei soldi virtuali, degli euro, diciamo così. Quindi questa è una cosa molto buona. Poi, che altro? Ovviamente ci dà altri consigli, soprattutto le raccomandazioni quando iniziamo il gioco. Cosa conviene vendere, tenere, in cosa conviene subito cimentarsi e vi dicendo. Vabbè, ovviamente, poi la garanzia, l'assistenza tecnica. E basta, dai, è finito qua. Però, ragazzi, rendetevi conto, ho perso tempo. Realmente questo era un materiale, non materiale, scusate, un manuale utile. Cioè, non è il classico fogliettino che è avanti al disegno della copertina del gioco, è dietro questa scritta che nessuno legge e che repute inutile. Perché, in effetti, è realmente inutile, ragazzi, credetemi. Cioè, qui, realmente, forse ho esagerato a dire un artbook, sicuramente, ma è un manuale utile. Cioè, serva a qualcosa, ragazzi, credetemi. Serva a qualcosa. Eccolo qua. Vi faccio vedere la custodia. Nulla di che, però, molto bello, dai. Io so contento di questa cosa qui. Allora, ragazzi, questo era il contenuto di questa edizione di Farming Simulator 15, ovvero l'unica in commercio, tra l'altro, per console. Ho preferito chiudere così il video mettendo a fianco alla custodia il librettino, perché questa volta, ragazzi, merita davvero e spero che servirà per il futuro magari a un cambiamento, diciamo, rispetto a classici libertini che troviamo dentro, ragazzi. Che dire, ragazzi? Io lo consiglio. Sicuramente comincerà il gameplay anche con questa serie di Farming Simulator. Se vi va, visto che comunque sia, possiamo giocarci anche online, fatemelo sapere se vogliamo cominciare una carriera insieme. E che dire, ragazzi? Qualsiasi domanda scrivete pure, cercherò di rispondervi al breve tempo possibile. Se il video vi è piaciuto, un pollicione in su. Iscrivetevi al canale se vi va e arrivederci al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.